Allora, noi parliamo di ondate di calore e quindi quando parliamo di caldo che non ci dà tregua pensiamo all'Islanda dove stiamo andando con Michele Rebora. Buongiorno Michele, ci dia intanto una buona notizia e ci dica lì com'è la temperatura, fa caldo anche lì oppure no? Ciao, buongiorno. Diciamo che non si suda. In realtà oggi è una giornata bellissima, però sono venuto in bicicletta a lavorare stamattina e avevo le mani un po' ragrenzite per cui diciamo che adesso ci saranno tipo otto gradi e oggi pomeriggio quando ci sono restato un po' di più 16 forse qualcosa del genere che è come se ne fossero 20 e qualcosa ma va bene. Però diciamo che più di così non va diciamo. No, sui 20 gradi. Sì, 20 gradi in realtà c'è caldo, sembra incredibile dirlo ma ci sta in maglietta benissimo però quel tempo asciutto sempre, come si dice no, sottare proprio l'affa no, non ce n'è mai. Allora scusi Michele ho iniziato con questa domanda un po' di curiosità perché questa mattina parlavamo insomma di questa ondata di calore che stiamo attendendo. Allora intanto lo pronunci lei perché io non ci provo. Lei ha cercato anche di scrivermi come va pronunciata la città dove vive, il posto dove vive ma ci racconti un po' come è partito insomma da Genova, dalla Liguria per arrivare lì in Islanda. Sì, dunque io abito a Moshe Spire che è una cittadina vicino a Reykjavik, la capitale come dire un po' a Renzano rispetto a Genova. Vivo qui ormai da 2008, per cui sono 14 anni, qui in questo paesino. Poi invece in Islanda sono venuto nel 1999, in realtà per caso diciamo o meglio per amore possiamo dire perché ho incontrato una bella islandese sui monti di Genova, dai laghi del Corzente vicino a Praglia e da lì diciamo scaturita l'idea dell'Islanda non è che fosse mai stato un piano di fuga dai brichi. È stato l'amore, lei non lo sa ma io sono super romantica e quindi ho incontrato questa ragazza islandese e poi la vita diciamo così l'ha portata a seguirla nel suo paese. Esatto, esatto. Infatti quello lì diciamo è stato all'inizio, per chiarirsi quella bella ragazza islandese, mia moglie ancora, abbiamo quattro figli per cui diciamo che l'investimento ha dato i suoi frutti. L'adoro, l'adoro. Genovesi, siano genovesi. E no, poi però diciamo al di là di quello, come si può capire da uno che è stato più di vent'anni in un paese, ci sto bene altrimenti avrei già te lato. Sarebbe tornata a casa diciamo così. Senta, dal punto di vista del welfare, ora noi stiamo vedendo immagini anche dell'Islanda in generale, bellissime dal punto di vista della natura. Dal punto di vista del welfare, anche noi abbiamo l'immagine di un paese con molta attenzione nei confronti dei suoi cittadini. È così? Sì, diciamo che l'Islanda, beh, prima di tutto bisogna fare la premessa che in un paese grande come circa il nord Italia ci stanno 350.000 persone. Per cui già, diciamo che già è una cosa che i Liguri già fa... Strano. No, sì, non solo strano, ma diciamo fa anche appealing il fatto che, come vedete da queste immagini, gente poca. Per cui... È per questo che si trova bene. Già, quella lì è già una cosa. Code, code sull'autostrada non ce ne sono, diciamo. Per cui è già una cosa. Ma, no, dal punto di vista della società in sé, scherzi a parte, il... Islanda è un paese che... Ecco, con l'immagine lì, veramente, l'Islanda, non so da dove l'avete presa, ma vabbè. Ma il... Io non lo so, tirerò le orecchie un po' al monitorio. Sì, quello mi sembrava più giusto l'entroterra, ma vabbè. Ma lei è sicuro che non fa il comico? Sì. In... Mi chiederei del welfare. Il Islanda è una città dove è molto indipendente, molto autonoma. Cioè, dove le persone sono autonome, nel senso che... Che cercano ben ben di tirarsi sulle maniche da sole. Nel momento in cui non ce la fai, o nel momento in cui c'è un... un disastro naturale che, come potete immaginare, sono abbastanza... Diciamo, non sono così infrequenti. Allora c'è un senso di coesione incredibile. Per cui anche da... Quella è, diciamo, la società che... Un tratto che denota tutta la società. Per cui anche il sistema del welfare è così. Cioè, nel momento in cui hai bisogno, non paghi più nulla. Cioè, sì. Per cui è... E anche dal punto di vista di attenzione verso... I bambini. I bambini, appunto. I bambini, per esempio, fino a 18 anni, no. Cioè, che i bambini, appunto, sono fino a 18 anni. Non paghi cure mediche, paghi pochissimo al dentista, non paghi in piscina, eccetera, eccetera. Naturalmente pagano gli altri. Cioè, ovviamente. Per cui... Sì, però sembra veramente un altro mondo rispetto al nostro. Sì. E lo è abbastanza. Diciamo che, ecco, dal punto di vista, così senza essere troppo critico, però diciamo che quando uno torna in Liguria, il fatto di avere i figli sembra un po' come avere un hobby strano. Cioè, uno... Cioè, sembra... Se uno arrivasse con un ara, un ara Macao, farebbe meno impressione. Cioè, diciamo così. Non lo diciamo al nostro regista che è un'eccezione, perché ha quattro figli. Però è veramente una mosca bianca. Nella nostra Liguria. Senta, sul fronte, diciamo, anche del cibo, della quotidianità anche. Lei ci diceva giustamente, sono 350 mila abitanti in un paese grande come Nord Italia. Non c'è molta vita sociale, o forse mi sbaglio. Diciamo che è un po' sì. Una delle cose che, ora scherzo a parte, dicevo che non c'è nessuno. Effettivamente non c'è quasi nessuno in giro. Cioè, sembra una... Che poi, vabbè, di questi 350 mila, più di 250 mila abitano qui intorno al capitale. Per cui potete immaginare il resto del paese. Ma, cioè, è proprio un sistema un po' diverso. Cioè, una socialità diversa. Su certi punti è una socialità molto ligure. Nel senso che stai a cinque metri di distanza. Però, il... È una socialità in cui, se sei nel giro, sei nel giro. Se non sei nel giro, sei fuori. Cioè, per cui, diciamo, che è una delle cose che tende a impaurire un po' per esempio gli italiani in generale. Perché il fatto che, appunto, come fai a socializzare, come nessuno che ti... Che ti cerca di primo acchito. Ma stai a Genova, scusa. È adorabile, ma io la voglio ospite fisso. L'Islanda come Genova. Senta, Michele, lei... Posso chiederle che lavoro fa lì? Siamo già andati lunghi, ma mi sta troppo simpatico. Sì, io lavoro come dirigente della sicurezza e della qualità per una compagnia che fa servizio all'industria. E dal punto di vista del cibo, invece, quello un po' le manca nella Liguria? Un pochettino, sì. Ci diciamo che sono fortunatissimo che questa mia carissima moglie ha imparato a cucinare a Genova, per cui mangiamo genovese quasi tutti i giorni. Però... Ah, wow! Da qui anche il pesto, che facciamo qui, buonissimo. Ma, beh, ci sono alcune cose che però sono impossibili da sostituire, tipo le acciughe fritte, che mangeremo un piatto anche ora. La focaccia, le paste, però, beh, infatti, quando vengo in... quando torno in Liguria ho sempre la lista delle cose da check, check, check. E dai, me ne dica le prime tre, quindi l'acciuga e la focaccia. L'acciuga, focaccia e paste. Paste? Paste. Paste. Allora, io la ringrazio. Grazie Michele. Rebola, senta, ci può salutare in islandese? Perché ormai, insomma, dopo vent'anni immagino che lei parli correttamente e l'aspetto prestissimo. Ma lei non ha mai pensato di fare il comico? Ma guardi che lei è proprio nato. Ci penserò, grazie. Ci pensi, tanto ci saluti in islandese. Very pleasure, have you got it. E che cosa ci ha detto? State bene e buona giornata. Buona giornata, grazie mille. Grazie, allegri, lo diciamo, come dice sempre Gilberto Volpara, perché arrivate dalle stesse parti. Esatto. Insomma, grazie Michele Rebola.